Entriamo nel tecnicismo della ZTL. ZTL abbiamo detto con i varchi elettronici, grande novità, i residenti ovviamente si domandano come funzionerà per loro, cosa dovranno fare? I residenti, già quelli che hanno il pass vecchio, già sono stati inseriti, quindi il 90% dei veicoli già sono stati registrati e sono stati inseriti nella cosiddetta white list, nella lista bianca, quindi loro non devono fare nulla. Chi ha dei veicoli nuovi o è un nuovo residente del centro storico deve venire, deve fare la richiesta, deve portare le fotocopie del libretto dell'auto e un documento di riconoscimento. E noi gli rilasciamo il pass se è in via di Cata, mentre nel corso Vittorio Emanuele il pass non verrà più rilasciato e gli verrà registrato il numero direttamente nel software della ZTL automatica. Una cosa importante è che rimane attiva la diversificazione dei colori per i varchi e che i residenti dovranno entrare proprio dal varco di riferimento. Sì, questa è una cosa importante. Il varco di riferimento deve essere utilizzato anche in questo caso, cioè chi ha il pass che poteva accedere nel varco C, cioè quello di via incisa per indendere, dovrà accedere al varco C. Se dovesse accedere dal varco B, cioè quindi dal corso Vittorio Emanuele, verrebbe sanzionato. Quindi bisogna rispettare il pass che gli è stato dato in precedenza. Altra specificazione, per quanto riguarda i disabili, cosa dovranno fare? Allora, i disabili saccensi, quindi chi abita Sciacca, consiglio di venire al comando e consegnarci il libretto dell'auto che loro utilizzano più frequentemente. Mentre per i disabili di fuori o per gli stessi disabili di Sciacca che utilizzano auto diverse, dovranno comunicare entro 48 ore all'email che già è funzionante, che la ripeto, ma nel link del comune c'è scritto anche sulla segnaletica nei pressi dei varchi, è ztl-comune-discacca.it e quindi dovranno entro 48 ore dal passaggio comunicarci il passaggio, perché sennò dopo 48 ore il verbale verrà inviato e quindi è trasmesso tramite notifica. Altre categorie che sono esentate, che vanno nella white list? Sì, sono tutti i turisti che verranno con macchina, ovviamente con veicolo, in questo caso i proprietari, quindi i titolari dei B&B, delle case famiglie, degli hotel che sono all'interno dell'area ZTL, quindi non nel centro storico, ma quelli che sono all'interno della ZTL, ci dovranno comunicare entro 48 ore con un modello che verrà predisposto e verrà messo nel link del comune, il nominativo di almeno un turista più la targa dell'auto. Per quanto riguarda le farmacie, ce ne sono diverse nel centro storico, forse due o tre? Anche in quel caso le farmacie avranno il modello da compilare e ci dovranno per una questione di privacy solamente comunicare l'orario di acquisto e la targa del cliente che ha comprato il farmaco. Per quanto riguarda questa fase, una fase di sperimentazione l'ha detto il sindaco, quindi ci potrebbero essere dei ritocchi, ci sarà un minimo di tolleranza? La tolleranza è prevista perché il Ministero ce l'obbliga e quindi per qualche settimana, possibilmente una settimana, 10 giorni, faremo una specie di controllo di effettivo, quindi di funzionamento effettivo e anche di statistica che ci serve per poi iniziare in maniera definitiva. Quindi un'elasticità sicuramente è prevista perché sarebbe impossibile partire a razzo e quindi multare tutti all'inizio, ma anche per abituare i cittadini a capire come funziona il sistema.